Buongiorno a tutti e bentornati a SkyTG24 Business, una puntata speciale, quella di oggi con ben due ospiti per due temi differenti. Parleremo di investimenti sostenibili. Che cosa vuol dire questa parola? Lo declineremo insieme al nostro ospite nella seconda parte del nostro giornale. Parleremo invece molto più diffusamente nella prima parte di andamento dei mercati finanziari anche guardando da qui a Natale, cominciando dagli spunti di attualità del giorno che abbiamo riassunto nel nostro sommarietto. Anzitutto la frenata di Wall Street, l'andamento negativo di tutti i listini azionari dopo gli ultimi sviluppi del caso impeachment con la testimonianza di Sondland che è l'ambasciatore americano a Bruxelles e che appunto sta in questa fase portando a un peggioramento della posizione del presidente Donald Trump. Parleremo ancora di America perché General Motors va all'attacco. In pratica ha aperto una fronte legale nei confronti di Fiat Chrysler. Il titolo sta scendendo pesantemente a piazza affari. Ne parliamo tra poco. Parleremo anche di lusso, di beni, appunto di lusso come si dice e di alta moda con Louis Vuitton che secondo l'agenzia Bloomberg ha alzato l'offerta per acquisire Tiffany portandola a 130 dollari ad azione. Ne parleremo tra poco. Andiamo subito a monitorare l'andamento di piazza affari e degli indici europei con il sole 24 ore con Chiara Di Cristofaro in diretta. A te. Buongiorno Vittorio. Oggi la parola chiave è incertezza. Ancora incertezza legata alla guerra commerciale, quella che sta tenendo banco ormai da un anno e mezzo sui mercati. In certezza su due fronti. Prima una dichiarazione del ministro del commercio cinese che ha detto che l'accordo sta per arrivare ma non sono ancora chiare le richieste degli Stati Uniti. In discrezioni di stampa poi già da ieri parlavano di un possibile slittamento in avanti della firma della fase 1 dell'accordo, quella che doveva arrivare a fine novembre. Slittamento in avanti quindi ai primi mesi del 2020. Questo è bastato per aumentare la tensione sui mercati e per far scattare i realizzi. Lo ricordiamo, le borse nei giorni scorsi hanno aggiornato i massimi dagli ultimi quattro anni e mezzo per quanto riguarda l'Europa. Lo vediamo dalla grafica, oggi prevale la debolezza. L'altro fronte di incertezza arriva da Hong Kong perché gli Stati Uniti hanno preso posizione a favore della democrazia, a favore dei diritti. Quindi in qualche modo a favore dei manifestanti di Hong Kong. Prima con un provvedimento del Senato, ieri con un provvedimento del Congresso. Mossa che ovviamente alla Cina non è piaciuta. Ora si aspetta su questo tema la firma di Trump. Gli investitori comunque prendono l'occasione per fare qualche realizzo. Vedremo come procederà la giornata. Infatti Chiara, andremo tra poco a Hong Kong con il nostro inviato sul campo. Adesso un altro tema caldo di Piazza Affari. L'andamento molto negativo del titolo Fiat Chrysler dopo che General Motors ha in pratica intentato una causa legale nei confronti del gruppo guidato da John Elkan. Sì, infatti la notizia è arrivata ieri. General Motors ha intentato questa causa accusando Fiat di aver mantenuto rapporti non corretti, quindi corrotti in qualche modo con il principale sindacato americano del comparto auto. Si tratta di un'accusa che si inserisce in un filone di inchiesta già partito nel 2017, in cui erano stati coinvolti alcuni manager di Fiat che si erano dichiarati colpevoti. La posizione di Fiat è che si tratti di posizioni individuali, quindi che il gruppo nulla ha a che vedere con questa situazione. Il fatto è che Fiat pensa che General Motors abbia voluto intervenire su questo tema, abbia voluto fare questa mossa molto dura per contrastare i colloqui in corso con Peugeot per la fusione, fusione che lo ricordiamo dovrebbe arrivare entro l'anno. Quindi un po' una mossa per ostacolare questa maxi operazione. Altro elemento è che a breve partiranno i negoziati per il rinnovo del contratto proprio tra Fiat e i sindacati dei produttori americani. Negoziati molto delicati e che General Motors ha appena concluso. Tutta questa situazione, più che per la richiesta di danni che ancora non è stata quantificata da parte di GM, pesa sul titolo a piazza affari anche qui per l'incertezza, perché è un ulteriore elemento di incertezza sia sulla fusione sia sulla contrattazione sindacale. Anche qui vedremo se ci saranno novità in questi giorni, ma probabilmente ci vorrà un po' di tempo per capire quali saranno gli esiti. Vittorio, a te. Grazie Chiara. In effetti la parola incertezza sta dominando la giornata sui mercati e sta dominando anche la scena a Hong Kong, dove l'abbiamo visto. Nel frattempo il congresso americano ha approvato lo Human Rights and Democracy Act, in pratica un provvedimento appunto varato per sostenere gli attivisti pro-democrazia nella ex colonia inglese, provvedimento che adesso va alla firma del presidente Trump. Noi stiamo monitorando la situazione, lo stiamo facendo giorno per giorno con il nostro inviato Pia D'Emilia, perché non si fermano le proteste che sono pacifiche nelle ultime ore all'interno del grande magazzino IFC nel centro della città. Sentiamo la corrispondenza del nostro inviato. Mentre la situazione al Politecnico è ancora bloccata con forse una sessantina di ragazzi ancora dentro che non hanno nessuna intenzione di arrendersi, però anche la polizia sembra non abbia intenzione di forzare il blocco, qui nel centro di Hong Kong, a Central, vedete siamo in uno dei più grossi department store, l'IFC, e come tutti i giorni a pranzo continua questa protesta a singolari, in mezzo a tutte le boutique, a tutte le grandi griffe, centinaia di protesters, di manifestanti si appollaiano, vedete sopra, e cantano il loro slogan, 5 domande non una di meno, libertà, democrazia per Hong Kong, se bruciamo noi brucerete tutti. La cosa che colpisce è che né gli addetti alla sicurezza né la polizia intervengono e neanche questi ragazzi, ma non sono solo ragazzi, sono anche impiegati qui della zona centrale, si permettono di compiere attivantalici, qui è pieno di boutique aperti con i loro prodotti in vista e non succede assolutamente nulla. Un altro segno della civiltà di questo paese, ma anche della determinazione di questi ragazzi che non intendono abbandonare la protesta. E domenica si vota. E allora approfondiamo questi ed altri temi con il nostro primo ospite di questa puntata, come detto una puntata speciale con due ospiti, do il benvenuto a Carlo Benetti di GAM Italia, benvenuto Carlo. Buongiorno, ben ritrovati. E allora partiamo subito, a questo punto riallacciamoci con Hong Kong. Stiamo vedendo una situazione un po' strana sui mercati, nel senso che lunedì e martedì, per restare agli ultimi giorni, abbiamo visto degli investitori che un po', non dico se ne infischiavano, ma non davano gran peso a quanto sta accadendo. Hong Kong è stata la piazza migliore in Asia, ha guadagnato oltre un punto percentuale. Dopodiché nelle ultime due sedute, quella di oggi in particolare, il calo invece è stato molto più marcato. Insomma, cosa sta succedendo da un punto di vista, ovviamente, dei mercati finanziari, sulla questione Hong Kong? Beh, nel corto termine, appunto, nel succedersi delle giornate, la volatilità è alta, ma soprattutto i mercati sono molto emotivi e la difficoltà è nel distinguere i rumori di fondo dai segnali veri. In questo momento il calo è dovuto, lo ricordava il servizio, lo ricordavi tu, il Democracy Act promosso dal Congresso, che mette sacrosanto sotto l'aspetto dei valori democratici e della solidarietà ai ragazzi di Hong Kong, ma è polvere nel meccanismo degli accordi commerciali, quando i mercati stavano già puntando su un esito favorevole nelle prossime settimane del negoziato commerciale, che è il vero generatore di incertezza dal 2018 oggi. Tu inquadri questo atto nella più generale, diciamo, trattativa, per non dire guerra commerciale, tra Stati Uniti e Cina. Un piccolo, passami il termine, dispetto ai cinesi sposando la protesta di Hong Kong. L'ho semplificata un po'. Non so se si tratti di un dispetto, perché in realtà una dimostrazione di vicinanza e solidarietà alle istanze democratiche di Fukuyama alla fine... Istituzionalmente, diciamo, inappuntabile da quel punto di vista. Sì, perché poi alla fine Fukuyama aveva ragione, nel senso che è vero che ha imperfetta la società, la liberal democratica, però i ragazzi di Hong Kong o i ragazzi di Istanbul, questo chiedono un po' più di democrazia, un po' più di partecipazione. Quindi la solidarietà è, credo, dovuta. In un discorso più ampio di equilibri geopolitici e geostrategici con la nuova polarizzazione Stati Uniti-Cina, certamente questo è un passo di... è polvere nell'ingranaggio. E a proposito di Stati Uniti e Cina, guardiamo anche dall'altra parte dell'oceano Pacifico, con la presidenza Trump alle prese. Da un lato con il procedimento di impeachment che va avanti, e stiamo per entrare nell'anno elettorale in cui Trump si gioca la rielezione, dall'altro sul fronte economico, più strettamente economico, dei dati abbastanza positivi sul fronte della crescita, con un Powell, il numero uno della Federal Reserve, sotto pressione da parte di Trump per fare di più e meglio, per dare un ulteriore benzina all'economia. Partiamo dal primo aspetto. Dunque, il primo aspetto... Impeachment. Allora, l'impeachment... Io non credo che l'impeachment sia un elemento così determinante nell'andamento dei mercati. Mi collego quindi subito al secondo aspetto, e cioè i segnali, la forza economica, il rallentamento... Può essere solo, perdonami, l'occasione, tra virgolette, per prendere un po' di profitto, visto che già solo due giorni fa Wall Street ha ritoccato i massimi storici, ossia un po' la palla al balzo per portare a casa un po' di guadagno. È corretto, è corretto. In effetti, da parecchi mesi, gli indici americani oscillano intorno ai massimi storici, per cui di questo stiamo parlando, di oscillazioni rispetto a massimi. Piccole, ma sempre sui massimi. Ma sui massimi. Quindi guardiamo la corsa che ha fatto negli ultimi dieci anni la borsa americana o le borse mondiali. In questo momento credo che abbiano più forza sugli indici, sugli operatori, le notizie del fronte economico, cioè il rallentamento, che non è mai diventato recessione. Il rallentamento sembra finire per aprire a una ripresina, debole, ma una ripresina si sconta e si sconta quello. L'impeachment potrebbe diventare importante sui mercati, lo è già politicamente, ma potrebbe diventare rilevante se togliesse probabilità di elezione a Trump. Qui bisogna fare un esercizio di sceverare le opinioni personali e le simpatie personali da quello che è la maggioranza degli operatori. E gli operatori non gradirebbero il mercato, non gradirebbe la candidatura Warren o Sanders. Quindi se... Sarebbe un ulteriore fronte di incertezza, tra virgolette, un presidente non rieletto è capitato negli ultimi 50 anni, vado a memoria, solo un paio di volte. Mi ricordo Bush, padre, nel 92, e Jimmy Carter, che fu sconfitto da Rega. Quindi, voglio dire, capita una volta ogni 20-30 anni. E soprattutto, siccome Trump è imprevedibile, ma accorto, farà molta attenzione a non rompere il giocattolo di un'economia in crescita e di una borsa positiva. Ecco perché le negoziazioni con la Cina magari avranno dei momenti di stop, ma ci sarà anche il go, perché è troppo importante non giocarsi le possibilità di rilezione con una buona economia e una buona borsa. In un flash, sul fronte della crescita economica, ti aspetti che l'eccessivo, o l'eccesso di pressing sulla Federal Reserve possa mettere troppa benzina a un motore che va bene, ma con qualche ombra ogni tanto, con qualche rallentamento, che sottolineavi? Beh, il braccio di ferro fra Casa Bianca e Federal Reserve è quasi inedito. Però nella storia, nell'anno elettorale, la Federal Reserve è stata sempre conciliante, allineata e coperta, diremmo, con la Casa Bianca, per cui no, non mi aspetto sorpresa, anche perché Powell ha detto in una delle ultime conferenze stampa, in una delle ultime dichiarazioni, ha detto certamente le nostre mosse saranno guidate dai dati, il data driven, che come in mantra viene ripetuto da anni, ma ha aperto la porta anche alle condizioni generali dell'economia globale, e questo significa lasciarsi la porta aperta a qualsiasi iniziativa. Io credo che la Federal Reserve, la politica monetaria, rimarrà affiancata ai dati economici, farsi guidare dai dati dell'economia reale, ma anche a secondare la presidenza. E a secondare, nello stesso tempo, Trump. Veniamo ai fatti di casa nostra, veniamo all'Europa, la crescita per il prossimo anno non è molto sostenuta, sono arrivati i dati dell'Ox che riguardano l'Italia, in realtà con un tasso di disoccupazione che per fortuna cala al 10% nel 2019, ma le stime di PIL di crescita economica del nostro paese per il 2020 sono ferme al più 0,4%. L'Italia è fanalino di coda in un'Europa che non cresce neanche tanto. Sui mercati cosa potremmo vedere? Come si potrà tradurre questa economia che cresce pochino, pochino? Beh, noi abbiamo una flessione del manifatturiero da parecchi mesi con la Germania, anche noi che siamo la seconda potenza manifatturiera in Europa, nell'Eurozona, però diciamo che il dato deludente del settore industriale con il settore automobile in Germania nella tempesta perfetta è compensato dalla tenuta dei servizi e dei consumi. Quindi diciamo che siamo in questo crinale di un manifatturiero che va male ma di servizi che tengono. Ti chiedo allora, in 30 secondi, un flash, hai parlato di settori, quali possiamo guardare da qui ai prossimi mesi, alle prossime settimane se volessimo puntare un po' dei nostri risparmi? Su quale settore si può guardare con maggiore attenzione? Allora, più che al prossimo mese guardiamo qualche mese di più, diciamo. Almeno un trimestre. Ecco, perché dal prossimo mese ci sono i regali, ci sono i regali da fare, quindi i denari vanno... Allargiamo un po' l'orizzonte. Allargando l'orizzonte, guardando i grandi trend della crescita globale, dello spostamento del baricentro dal politico e dall'Atlantico al Pacifico, la demografia, i grandi temi dei prossimi mesi che fanno la loro bella figura in un portafoglio ben diversificato sono quelli del lusso, abbiamo tutta la classe media emergente cinese, sudamericana, indiana che acquista beni di lusso europei e americani, l'Eal Care, la salute, per gli investimenti che facciamo noi in Europa e negli Stati Uniti e per i nuovi investimenti fatti nei mercati emergenti e ovviamente la tecnologia che taglia trasversalmente tutti i settori. Perfetto, grazie Carlo Benetti di Gamma Italia per essere stato con noi. Carlo, alla prossima occasione, torna a trovarci. Con piacere. Resta ancora un attimo qui perché lanciamo il prossimo contributo, andiamo a monitorare anche le due situazioni che in questa fase in Italia sono le più calde. Il va da un lato, all'Italia dall'altro. Cominciamo da Taranto perché prosegue il presidio da parte delle imprese dell'Indotto che chiedono il pagamento delle fatture scadute. Garantiremo un presidio responsabile senza ledere le aspettative delle aziende. Così il presidente di Confindustria Taranto. Il presidio continua, l'impegno di Confindustria è quello di garantire un presidio responsabile. Il motivo per cui Confindustria si è impegnata in questi giorni è riuscito totalmente, parzialmente, ma l'impegno di Confindustria è quello. Ovviamente non di ledere le aspettative degli imprenditori e delle aziende presenti, ma di tutelare le aspettative degli imprenditori e evidentemente di garantire le funzionalità minime, messe in sicurezza e quant'altro dello stabilimento. Per cui responsabilità. Si complica il salvataggio di Alitalia perché dal governo c'è un certo ottimismo ma è assai probabile che ci sarà un ulteriore rinvio per la scadenza. Diciamo che era fissata per oggi, è fissata per oggi, 21 novembre, la presentazione delle offerte però molto probabilmente slitterà ancora. Sentiamo Simone Spina. Non spicca il volo e il salvataggio di Alitalia. Il governo è moderatamente ottimista ma il dossier si è ingarbugliato. Il ministro dello sviluppo Stefano Patuonelli comunque non drammatizza confermando che la data che conta è quella di marzo quando l'intera operazione per evitare il fallimento della compagnia aerea gestita dai commissari dovrà concludersi. La situazione per il momento rimane in sospeso perché la cordata che dovrebbe rilevare Alitalia non è completa. Secondo lo schema promosso dallo scorso esecutivo la violinia tornerà sotto il cappello pubblico tramite Ferrovie dello Stato e il Ministero del Tesoro che metterebbero più della metà delle risorse necessarie. È dal lato dei soci privati che la situazione appare confusa. Al consorzio dovrebbe partecipare Atlantia ma il gruppo che controlla gran parte le autostrade italiane e gli aeroporti di Roma non è ancora convinto. La holding in attesa di capire cosa vorrà fare il governo a proposito dell'annunciata revisione delle concessioni autostradali sottolinea come rimangano nodi da sciogliere fra cui la definizione di un piano industriale solido e l'individuazione di un partner industriale. Quest'ultimo punto è pieno di incognite. Si è fatta avanti Delta Airlines ma il colosso statunitense dei cieli vorrebbe ridimensionare le tratte verso il Nord America considerate tra le più redditizie. Resta in orbita Lufthansa che però è interessata a un'alleanza commerciale da rendere effettiva solo dopo una ristrutturazione del vettore cioè tagli robusti alla flotta e al personale. La possibilità di esuberi appare una possibilità concreta qualunque sia l'assetto definitivo. Nel campo delle ipotesi c'è anche quello della bancarotta. Il prestito erogato dello Stato è sufficiente solo per pochi mesi. Insomma se non ci sarà una soluzione il governo potrebbe trovarsi tra le mani un'altra grana dopo quella dell'ILVA. Simone Spina Sky TG24 Per questa parte finale di Sky TG24 Business mi ha raggiunto in studio Sara Silano di Morningstar bentornata Sara Grazie un saluto a tutti E allora sei qui per spiegarci per parlarci di che cosa? Dell'ottava edizione della settimana dell'investimento sostenibile e responsabile si fa un gran parlare mediaticamente lo stiamo vedendo anche di investimenti ambientali di maggior tutela dell'ambiente di lotta ai cambiamenti climatici ma non c'è solo questo aspetto nell'investimento cosiddetto sostenibile che cos'è? L'investimento sostenibile è un investimento in attitoli azionari obbligazionari e fondi che prestano particolare attenzione agli aspetti ambientali pensiamo al cambiamento climatico sociali pensiamo alla sicurezza dei dati alla privacy oppure anche agli standard lavorativi e del buon governo societario Quindi da qui la sigla ISG cioè Environment Social and Governance cioè i tre pilastri di questo tipo di investimento Sono proprio i tre pilastri che vanno a colmare diciamo a integrare le analisi finanziarie che vengono fatte sugli strumenti di investimento ma anche le scelte degli investitori che possono appunto decidere di scegliere i loro investimenti tenendo in considerazione questi aspetti ambientali sociali e di governo societario per una scelta migliore rispetto a un investimento solo tradizionalmente finanziario Faccio un esempio semplificando al massimo vado ad acquistare titoli azionari di una società che magari investe nelle energie rinnovabili e non nel petrolio tradizionale sto facendo un esempio banale E quello che accade accade anche nei portafogli dei fondi io posso scegliere ad esempio un fondo che esclude l'energia petrolifera le energie che derivano da fonti fossili oppure che esclude il tabacco le armi oppure posso scegliere un portafoglio che integra all'interno delle sue scelte di investimento questi fattori ambientali e sociali e quindi prende le migliori aziende in questo campo o ancora posso scegliere quei fondi che dal punto di vista decidono non solo di avere un ritorno finanziario ma anche di un impatto ambientale ad esempio pensiamo appunto a quelli che decidono di sostenere dei progetti per ridurre l'inquinamento oppure per l'economia circolare e infine l'ultimo aspetto è quei gestori quei fondi quegli strumenti finanziari che instaurano un dialogo positivo con le aziende in cui investono quindi l'azienda petrolifera di turno per cercare di migliorare le condizioni ad esempio ambientali quindi far sì che l'azienda inquini meno far pressione perché ad esempio ci sia più diversificazione nel consiglio di amministrazione quindi ci siano anche delle donne accanto agli uomini insomma una serie di aspetti che come ricordavi toccano più ambiti da quello ambientale a quello sociale a quello di gestione di governance che sommati insieme danno questo tipo di investimenti guardiamo con te Sara questo cartello grafico che ci fa un po' la fotografia della differenza diciamo di peso tra i fondi tradizionali e i fondi invece cosiddetti sostenibili non solo in Italia ma in tutta Europa dati ovviamente aggiornati al settembre del 2019 ecco perché l'ultima colonna è diciamo ancora il 2019 ovviamente non è un anno completo ce lo racconti questo grafico ce l'hai qui alla tua sinistra così lo puoi vedere meglio la buona notizia è proprio che vediamo che il patrimonio investito in strumenti sostenibili in fondi sostenibili è in crescita i tassi di crescita sono superiori all'universo dei fondi tradizionali lo vediamo diciamo è la colonnina azzurra che dal 2014 a oggi vedete è in costante aumento quasi costante aumento perché il 2018 c'era stato un piccolo rallentamento vedo ma insomma il trend è chiaro il trend è chiaro e questo grafico ci mostra anche chiaramente che l'universo dei fondi tradizionali è ancora quello predominante ma la cosa interessante è valutare i tassi di crescita e il fatto che gli investimenti sostenibili oggi crescano a una velocità superiore rispetto agli investimenti tradizionali ci fa pensare che in futuro avranno sempre più importanza guardiamo rapidamente abbiamo 30 secondi a chiudere il patrimonio dei fondi sostenibili anche qui un trend di chiara crescita negli ultimi anni siamo a 30 miliardi di dollari siamo veramente su 30 mila miliardi di dollari a livello pardon a livello a livello globale dove l'Europa ha un ruolo importante bisogna dirlo e l'Italia anche stanno crescendo anche gli investimenti negli Stati Uniti che invece dal punto di vista politico se guardiamo ad esempio alle questioni ambientali stanno forse facendo qualche passo indietro gli investitori invece scelgono la sostenibilità c'è un'America che rallenta un po' un'Europa che invece una volta tanto fa da traino allora grazie a Sara Sirano di Morningstar per essere stata con noi grazie a voi per l'invito e buona settimana dell'investimento sostenibile pochi secondi per ricordarvi che tutte le notizie di economia di mercati finanziari sui nostri risparmi le trovate aggiornate 24 ore su 24 sul sito skytg24.it ovviamente nella sezione della pagina di economia per quanto mi riguarda è tutto grazie ovviamente per averci seguito l'appuntamento con skytg24 business e per domani come di consueto alle 11.30 ora dopo la pausa pubblicitaria riparte il TG con l'edizione delle 12 arrivederci grazie a tutti